Ciao, ho qui un oggetto abbastanza complesso sul quale vorrei mettere delle texture. Questo è un problema che ci capita abbastanza spesso. Sul mio canale trovate questo video, applicare textures sui modelli 3D in Blender, basi di UV mapping, che vi consiglio di guardare perché ha un approccio abbastanza particolare e semplice in qualche modo a quello che è appunto il posare delle texture su un oggetto 3D. Rispetto alla spiegazione molto semplice che faccio nell'altro video, a volte c'è bisogno di fare un vero e proprio UV unwrapping e fare un lavoro più accurato. E quindi volevo mostrarvi quale può essere uno dei modi. Quindi apro una seconda finestra qui e vado anche a chiudere la timeline in questo caso perché non mi serve e apro lo shader editor qui a fianco. Adesso mi sposto nella modalità material preview e qui non c'è alcun materiale. Vado a creare un materiale per il primo oggetto e lo chiamo legno. Mettiamo che io abbia delle texture di legno come appunto per esempio questa la carico nel mio materiale e la collego al colore. Cosa succede? Che potrebbe funzionare come in questa parte qui sotto oppure potrebbe avere un comportamento del tutto assurdo come nella parte qui sopra. Vado intanto a assegnare lo stesso materiale a tutti gli altri oggetti. Quindi seleziono tutto tranne gli oggetti che non sono di legno. Riseleziono questo e con CTRL L faccio Link Materials e ora ho assegnato lo stesso materiale a tutti quanti. Ho voluto appositamente prendere un oggetto complesso proprio perché ha diverse angolazioni e soprattutto la texture del legno è una texture nella quale io voglio che segua un certo andamento. Allora uno dei modi per risolvere il problema di quando proprio la texture si vede male come in questi casi potrebbe essere entrare nell'oggetto in Edit Mode, selezionare tutte le facce, premere U e scegliere uno dei metodi di unwrapping pronti. Quindi per esempio in questo caso potrebbe funzionare, siccome è fatto tutto da scatole, Cube Projection ed ecco che la texture appare, ma qui le venature del legno non sono corrette. Un altro modo che potrebbe funzionare è Smart UV Project, che è una modalità automatica di UV Unwrap. Faccio ok e a volte può dare appunto dei risultati migliori, come in questo caso sembra avere appunto indovinato meglio l'andamento di queste linee e le venature del legno adesso sono tutte piuttosto corrette. Se vado a farlo su degli oggetti inclinati come questo, seleziono tutto, U, Smart UV Project, ok. Sembra intuire un po' meglio l'andamento, quindi questo è il modo più semplice, Smart UV Project, in genere per ottenere dei buoni risultati molto velocemente. Qui ci sono dei cilindri invece, siccome derivano dal normale cilindro di Blender, il risultato è ancora buono, tranne in questa parte qui e quindi noi volendo possiamo anche andare a selezionare solo le parti che ci interessano a brappare, quindi per esempio questa e questa e premere U, Smart UV Project, ok, solo su queste zone. Quindi di un oggetto più grande posso comunque andare a fare questo lavoro solo su una parte più piccola, L, L, U, Smart UV Project, ok. Qui posso essere contento del lavoro fatto esternamente, mancano le parti interne, una, due, tre, quattro, anzi anche questa qua va bene, prendo le facce, in pratica quelle che non funzionano, quelle che non mi piacciono, U, Smart UV Project, ok. Ok, questi pezzi, questo, ho ottenuto un risultato buono anche su questa parte qua, qua faccio uno shade auto smooth, anche su questa parte qua, che era appunto curva e non era semplice, e quindi in genere, ecco che questo modo di fare l'unwrapping per oggetti di questo tipo può funzionare abbastanza bene. Ok, cerchiamo quindi di capire cosa ha fatto Smart UV Project. Per capirlo meglio, possiamo selezionare un singolo oggetto, per esempio questo, e andare nella tab di UV Editing. Andandoci, l'oggetto viene già messo in Edit Mode, e quindi mi ritrovo già in Edit Mode, però la visualizzazione di solito non mi mostra il materiale, e quindi è meglio spostarsi nella visualizzazione col materiale. Qui ho a destra la Texture, che se non è per qualche motivo, quella che voglio vedere, posso comunque da questa finestra qua su, andare a scegliere le altre texture che ho caricato. Voi qui potete visualizzare qualsiasi immagine, come guida, diciamo, indipendentemente da quella del materiale, che è scelta di qua. Quando voi selezionate delle facce qui, le vedete apparire anche di là, e quindi potete capire dove sono state mappate. Se seleziono tutto, le vedo tutte quante. E quindi posso eventualmente selezionare anche da questo lato le immagini, e per esempio cambiare il posizionamento, in questo caso sto scalando, sto spostando, notate che se mi metto fuori dall'immagine, siccome questa è una texture che si ripete perfetta, viene ripetuta anche qui, e non c'è nessun problema. Quindi, un modo è fare prima Smart UV Project, e poi venire eventualmente a correggere certi errori. Se questa parte finale così non vi piace, la potete selezionare qui, e spostarla da un'altra parte, e magari la posso anche ruotare di 90 gradi. Questo più o meno è quello che mi avete visto fare nell'altro video. Facendo così, uno stesso pezzo può condividere le stesse zone della texture. Per esempio, appunto entro, vado in Edit Mode, e vedo che qui c'è una sovrapposizione, anche perché li ho appena spostati, una, due e tre, che sono queste qua lunghe lunghe, si sovrappongono con queste, e quindi se sulla texture c'è qualcosa in questa zona, verrà condiviso tra entrambi. Ancora di più succede se uso oggetti diversi, vedete tendenzialmente Smart UV Project piazza tutto qui a sinistra, e la parte destra della texture non la uso mai. Un modo potrebbe essere entrare in Edit Mode su più di un oggetto, posso andare in Edit Mode su tutti quanti assieme, e quindi se premo A per selezionare tutto, se faccio da qui Smart UV Project, e premo OK, adesso cercherà di stipare, diciamo, nella texture, tutti questi oggetti contemporaneamente. In questo caso li ha tutti separati, in maniera tale che non si sovrappongono. E anche eventualmente per evitare ripetizioni, perché vedete questa qui è uguale a questa qui, selezionare tutti gli oggetti, entrare in Edit Mode, selezionare tutto, e vedete che ci sono molte sovrapposizioni qua, facendo U, Smart UV Project, ok, rifà il lavoro, qui le ha allungate, per qualche motivo. Questo errore è tipicamente dovuto a una scala non applicata. Proviamo a guardare, e in effetti vedete, 1,1, 0,2, sicuramente vale anche per queste. Se adesso applico la scala, e rifaccio la stessa cosa, Tab, A, U, Smart UV Project, ok, ecco vedete, adesso non sono più deformate le ruote, e ha cercato di utilizzare tutta la texture. Questo mi garantisce che non riciclo mai la stessa parte della texture, tranne ovviamente il fatto che qui ho usato un modifier mirror, sono due parti esattamente uguali. Quando avete questa situazione, è meglio applicare il mirror, riseleziono tutto quanto, entro a U, Smart UV Project, ok, e adesso non c'è più questo fastidioso effetto di specchio. Notate anche che cerca di rispettare le proporzioni, se fate lo Smart UV oggetto per oggetto, ognuno cerca di utilizzare quanta più texture possibile, quando li fate tutti contemporaneamente, Blender cerca di dargli la stessa dimensione, e quindi se voi avete applicato la scala dappertutto, la texture è usata nella maniera corretta. Fare in modo che lo spazio della texture non venga riutilizzato, diciamo, quindi questo modo di fare, è fondamentale se voi volete poi andare a dipingere sull'oggetto. Nel momento in cui voglio disegnare, che ne so, su questa scatola qualcosa, non voglio che appaia anche in altri punti, e quindi è fondamentale che le mie UV di tutti gli oggetti occupino solo un unico posto della texture. Per chiarirlo, creiamo una nuova immagine, image, texture, la creo nuova, pittura, facciamo 2000, 1024 per 2, copia, incolla, il colore di default, facciamo che sia il bianco, do ok, questa adesso è un'immagine completamente bianca, se la collegassi al base color, mi accorgo che è bianca, con sotto color, mix color, posso collegare la seconda immagine a B, e scegliere moltiplica, alzo il fattore, e quindi adesso quello che disegnerò qui, verrà moltiplicato con il legno, questo è un modo per poter dipingere sopra il legno, senza rovinare la texture originale, seleziono questa texture, e mi sposto in texture paint, e vedete, vedo qui la mia texture nuova, appena creata, qui non vedo il risultato, finché non mi sposto anche qua, nel material preview, però adesso con il pennello, posso selezionare un colore rosso, un po' più scuro, andare in layout, selezionare l'oggetto su quale voglio dipingere, tornare in texture paint, ecco qua, adesso come vedete, posso disegnare sull'oggetto, senza né rovinare la texture originale, né andare a sovrappormi in altri posti, tranne in questo caso appunto che c'è il mirror, e vedete che appare anche qui il risultato, e quindi volendo, io posso utilizzare i pennelli, anche direttamente in questa zona, e vedere il risultato dall'altro lato, questa texture qui non è stata ancora salvata, e quindi io devo ricordarmi di fare alt s, oppure di andare in image save, e salvare il file che viene proposto già con il nome, la pittura in questo caso png, faccio salva, è nella mia cartella, e sono sicuro di averla messa da parte, ci sono delle situazioni come questa, che potrebbero sembrare più facili, ma invece sono più difficili, soprattutto se la mia intenzione magari è quella di mettere questa texture, qualcosa di regolare, in questo caso è meglio procedere con un unwrap fatto con cura, una delle prime cose da fare, è creare un materiale che magari, io di solito chiamo UV check, perché mi serve a controllare le UV, gli do una texture speciale che creo apposta, creo un nuovo nodo texture, faccio nuovo, e queste appunto le chiamo UV grid, e c'è a disposizione qui, in tipo di generazione, c'è UV grid e c'è anche color grid, io sinceramente mi trovo bene con color grid, faccio ok, e questa se la collego al colore, vado su UV editing, vedete è un'immagine speciale, fatta da tanti quadratini, che si numerano qui da A a H, e da 1 a 8, che mi permette di vedere meglio, il risultato se vado in questa modalità, questa tazza l'ho ottenuta a partire da un cilindro, e quindi ha qualcosa che funziona, e qualcosa che non funziona, ma soprattutto come vedete il problema è qui, dove sono andato ad estrudere, se io seleziono e faccio Smart UV Project, Smart UV Project spezza la tazza in varie zone, in varie isole, se utilizzassi la texture che voglio usare, ci sarebbero tutte queste giunzioni che non funzionano bene, può funzionare appunto come era prima un cilindro, quindi selezionare tutto, premere U, mi sono messo da davanti, e faccio proiezione cilindrica, ed ecco che mettendomi da davanti, la proiezione cilindrica funziona abbastanza bene, queste deformazioni sono dovute al fatto, che la mia tazza è bassa e larga, in pratica nessuno dei metodi, diciamo automatici, funziona decentemente, in tal caso dobbiamo aiutare Blender a dividere l'oggetto in vari pezzi, che ci interessa appunto tagliare questo oggetto a un modifier su divisione, che posso disattivare, Smart UV Project ha deciso di fare un taglio lungo queste linee, che sono del tutto insensate, quindi cerco di aiutare Blender a fare dei tagli nelle posizioni corrette, devo selezionare i bordi dove voglio che ci sia il taglio, se faccio alt click su un bordo, seleziona tutto quanto al bordo, altrimenti con il maiuscolo potete selezionare tutti i pezzi uno per uno, premendo U esiste la voce Mark Seam, se io la premo, adesso questo bordo appare in rosso, è proprio l'indicazione che qui voglio un taglio, a un certo punto io non vorrei metterli da nessuna parte chiaramente, perché sono fastidiosi, però devo decidere, non posso fare a meno di farli, U Mark Seam, li metto nei posti dove magari le cose si notano di meno, essendo un cilindro, immaginate di avvolgere una carta attorno, devo anche dividerlo in qualche modo di taglio, posso prendere questa linea fino a qui, che continua qua su, e continua ancora qua su, poi vediamo cosa faccio qua, faccio U Mark Seam, perché ho scelto questa? perché è quella nascosta qui, che forse è il posto dove si vede meno, ora queste qui per esempio è un'isola tutta chiusa da un bordo, quando io premo L per selezionare qualcosa, prende tutto l'oggetto unito, però in Select Linked, posso anche dirgli, fermati dove ci sono i sim, ed ecco che appunto, si ferma quando diciamo l'isola è chiusa, è noto tra l'altro dove era stata unvrappata, infatti vedete qua c'è scritto G3, e corrisponde esattamente alla posizione che c'è qua, se premo L qui, adesso lui se la ricorda questa, vedete la tazza è per conto suo, se premo L qui, il manico è per conto suo, la tazza ha bisogno comunque di dividere il dentro dal fuori, quindi posso fare un sim lungo quest'altro bordo, U Mark Seam, qui diciamo non è proprio un cilindro, perché ha questa forma AC, però anche qui posso immaginare di fargli seguire questa direzione, quindi avrò bisogno, come avevo bisogno di questo taglio qui, avrò bisogno anche qui di un taglio, scelgo la parte interna, perché appunto è quella dove si nota di sicuro di meno, quindi proviamo adesso a separare tutti i vari pezzi, seleziono questo, U e scegliere semplicemente unwrap, se ho un'isola come questa, ecco vedete Blender cerca di fare del suo meglio, l'ha unwrappata come fosse un cerchio messo qua, se seleziono questo bordo, U Cylinder, ecco vedete che adesso queste sono in linea, essendo in linea, la texture che interessa a me, immaginatela al posto di queste caselle, funziona perfettamente, è diritta, H1, H2 funzionerebbe, perché appunto sono in linea, non funzionerebbe per niente qua dentro, perché immaginate qui le strisce, che vanno appunto, che ne so, da G1 a G8, e percorrono il cerchio in questa direzione, e quindi da G1 a G8, qui le avrei che fanno questo andamento, che non mi va bene, la cosa migliore qui è fare anche qua un cilindro, decidendo di interromperlo, per esempio in questa zona qua, U, Mark Sim, seleziono prima l'isola, mi metto da davanti, U, e scelgo Cylinder Projection, ed ecco qua, che anche l'interno è venuto, però notate, che qui c'è H6, H7, il sim, mi si è creato tra H6, e H7, se io mi metto, invece che di profilo qui, mi metto di profilo da quest'altra parte, sempre selezionando la parte interna, e premo U, Cylinder Projection, il sim, adesso, eccolo qua, tra 8 e 1, è esattamente qui del manico, che per me è preferibile, la parte sotto, sicuramente, in questo modo, non viene bene, e allora, preferisco fare un altro sim qua, quindi, Mark Sim, rinunciare a questo, U, Clear Sim, e adesso ho quest'isola, per conto suo, che, vedete qua, era mappata come questa linea, e quindi non funzionava per quello, e fare unwrap di questa, molto semplicemente, e quindi è diventato un cerchio, per ora non mi preoccupo delle proporzioni, mi interessa semplicemente, come viene disposta la texture, anche questo, U, unwrap, avevo ancora lasciato, selezionato la parte sotto, niente di grave, comunque vedete, questo me l'ha unwrappato, in una maniera, molto più sensata, che è questa, non è comunque perfetta, lo devo aggiustare, è deformato, c'è un modo, per risolvere, la situazione, far diventare quadrato, uno degli elementi, quindi, per esempio, seleziono questi due punti, e faccio, scala, y, 0, e così diventano, scala, y, 0, si allineano, scala, x, 0, e anche questo, scala, x, 0, seleziono questa faccia, e premo L, per selezionare tutte le altre, ma questa, è quella attiva, c'è un'opzione, nel menu tasto destro, che è, follow active quotes, che vuol dire, deforma, tutta la parte, che è selezionata, seguendo, quella attiva, se la premo, ecco che allinea, tutto il resto, sulla base, di quel punto, che io avevo raddrizzato, e quindi, adesso, questo manico, è perfettamente allineato, sulla texture, rispetto alle facce, questo qua, possiamo semplicemente, scegliere, unwrap, come abbiamo fatto, per l'interno, ora, se seleziono tutto, vedete, c'è una gran sovrapposizione, ma Blender, si può rangiare, risolvere anche quello, qui, sotto il menu delle UV, prima di tutto, Average Islands Scale, che vuol dire, metti tutte le isole, in scala, uno con l'altra, se seleziono tutto, e faccio, Average Islands Scale, ecco qua, adesso ha scalato, tutto quanto, in modo che, corrisponda, alle proporzioni, vedete, vedete che i quadrati, adesso sono più o meno, più o meno, della stessa dimensione, non ho più, questi quadratini, piccoli, qua dentro, però, questo mi ha, deformato, diciamo, il cilindro esterno, che invece, io volevo, che fosse perfetto, rispetto, alla dimensione, della texture, quindi, mi limito a farlo, questo Average Island Scale, solo, per le isole, che mi interessano, quindi, seleziono queste isole, che sono quelle, appunto, sbagliate, seleziono tutto, e faccio, Average Island Scale, ed ecco che, adesso, queste, tra di loro, sono, proporzionate, mentre, invece, questa, devo fare in modo, che corrisponda, a questa larghezza, perfetta, anche qui, c'è un'opzione, dopo aver selezionato, l'isola, Pack Islands, la impacchetta, in maniera tale, che ci stia, perfettamente, notate, tra l'altro, che ho disattivato, l'opzione di rotazione, se la rimetto, potrebbe decidere, di ruotare, la texture, ma io, non la voglio ruotata, la voglio proporzionata, così, quindi, potete andare sempre qua, nelle opzioni, dopo aver fatto Pack, la parte qua dentro, era già a posto, posso selezionare tutto, e fare Pack, con tutto, ha cercato, di far stare, tutte le isole, all'interno, di questa immagine, però, questi, hanno perso, la loro capacità, di distribuirsi, da, su tutta la texture, da sinistra a destra, può andarmi bene lo stesso, oppure, può essere che io, sia costretto, ad intervenire, questo è il momento, nel quale, caricare, la mia texture, effettiva, vado, a cambiare il materiale, dell'oggetto, creo, un nuovo materiale, UV check, non mi serve più, il materiale, sarà quello della tazza, carico, la texture, come colore, e già vedo, che appare in qualche modo, e ora, nell'UV editing, avrò questa texture, sotto mano, e quindi potrò controllare meglio, quello che succede, seleziono, quest'isola, Pack, solo di questa, e quindi vedete, ha riempito, perfettamente, ora, la posso, spostare, nella posizione, che interessa a me, so, che ho bisogno, di un altro spazio, per poterci mettere, il resto, nella zona rimanente, c'è spazio, per le altre isole, quest'altra, può utilizzare, i decori in questione, nella parte alta, per esempio, in questo modo, e ora, quest'altra isola, può utilizzare, questo spazio qua, che è libero, posso, anche farla più grande, perché sono abbastanza sicuro, che quest'altra isola, qua sotto, non mi interessa, che sia molto grande, perché, probabilmente, non dipingerò, la sotto, questa area qua, adesso, se seleziono tutto, le vedo, tutte quante assieme, e posso, assicurarmi, che non condividano, lo stesso spazio, ora, ho ottimizzato, abbastanza bene, lo spazio a disposizione, ho messo, tutte le varie isole, in modo separato, ho la possibilità, di migliorare, quindi, il risultato, se non voglio, il manico, bianco, ma lo voglio blu, potrei, o andare, nel mio programma, di grafica, e andare a cambiare, qui il manico, oppure, anche, direttamente, da dentro, blender, adesso, posso, pescare, questo colore, con la S, e andare a dipingere, il manico, adesso, strength, tiro via la penna, in modo tale, che sia, pieno, e posso, anche assicurarmi, in edit mode, di lavorare solo, su questa zona, quindi, andando in edit mode, selezionandola, e poi, mentre dipingo, premendo questo tasto, questo mi garantisce, di non poter andare, da nessun'altra parte, posso anche, venire a farlo, direttamente qui, però, ovviamente, in quel caso, come vedete, non funziona, la selezione, delle facce, che ho, realizzato, di qua, quindi, mi metterò, nella posizione, più comoda, per poterlo fare, adesso, devo girare un po', attorno all'oggetto, comunque, vedete che, alla fin fine, si tratta di dipingere, queste facce, da questo lato, quindi, magari, arrivo, fin qui, e poi, l'altra parte sotto, S, qui, per pescare giallo, e posso dipingerla, direttamente qui, se il fall off, invece di questo, scelgo, constant, avrò il pennello, bello netto, qui, è la risoluzione, dell'immagine, che è un po', scarsa, e quindi, si cominciano a vedere i pixel dell'immagine, avrei dovuto lavorare a una risoluzione un po' più alta, ora, se premo salva, sull'immagine, mi viene sovrascritto il file su disco, posso ripristinare il modifier smooth, ed ecco quindi il risultato, magari, adesso, faccio un roughness, 0,2, in maniera che sia più liscia, o se faccio un monogramma qua sotto, sarà tutto pixelato, perché nelle mie UV, la parte qui sotto, ha riservato una zona molto piccola, e quindi, nella mia immagine, che è solo da 1024x1024, questi sono davvero pochi pixel, ed escono fuori in questo modo, però, ho riservato maggior spazio, a questa zona, se io adesso andassi, a disegnare in quest'altro punto, quindi, dall'alto, se io adesso disegnassi la stessa cosa qui, viene più grande, e quindi, ho più pixel, a disposizione, ecco, in questa zona, è un po' meno pixeloso, perché qui ho più posto, rispetto a quello, a quello che avrei avuto di sotto, questo video, l'ho fatto, per integrare, quello che avevo già fatto, sulle UV, ho cercato di scendere, in maggior dettaglio, dei concetti, più difficili, su cos'è l'UV unwrapping, e come poterlo gestire, grazie, e alla prossima,